Perfetto. Sei accesa? Sì. C'è occhiali scuri? No, no, mi sono abbassati l'occhio. Ah, ok, 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 ok. Buongiorno dai Monti Sabini. Siamo, siamo. Stiamo a Nà, a Fasse, l'anello delle due montagne più alte dei Monti Sabini, Tancia e Pizzuto, quindi. Quindi siamo partiti dall'Osteria del Tancia. Io te facevo l'Osteria, l'angelo, mille. Fossi, fossi, fossi. Non ti mangiamo a sentire queste persone. Guardate, guardate che fiese. Come si chiama? Keta. Keta? Keta. Questa è l'Amazio? No, no, acqua Keta. No, è già Keta. Keta. E poi è Keta, Keta sta a bollire. Vabbè che non è più giovane della Lazio, però... Ecco, ora se sgrulla, levatevi, levatevi, o se sgrulla. ok guardate questa è la fuori eccolo e dai che figo bella da lui guarda che roba ma ora ti fai accarezzatelo andiamo? che ti fai accadezzatelo? andiamo via è uguale cheta acqua cheta bravo che si è sgrullato porca miseria ho sentito una doccia ho sentito vabbè oggi è 25 settembre 2021 ecco Bruno ciao stiamo sui monti sabini si fanno l'anello del tancia e del pizzuto le due montagne più alte dei monti sabini cominciamo col pizzuto no scusa col tancia e poi pizzuto e poi se andiamo ai posti del diavolo se c'è va se c'è sta soprattutto l'acqua perché 20 giorni fa erano asciutte quindi se li risparmiamo in questo momento sono asciutte i posti del diavolo quindi vabbè se vabbè se ci volevo andare se non c'è sta l'acqua che ci andiamo a fare no ma infatti mi ha detto Giovanni prima ha detto guarda 20 giorni fa erano completamente asciute ha piove non ha piovuto vabbè qui la discussione va appena lunghe ciao ciao ok lasciamo questo sentiero che poi è una sterrata e prendiamo questo sentiero che sale qui a sinistra passamonte monte tancia ecco qua monte tanci senza benvenito il perché ma tanci monte tancia vabbè ok adesso qui risale una lunga diagonale sbuca proprio sulla cima di passamonte vabbè siete contenti si stiamo proseguendo questo lungo questo sentiero dentro una bellissima pineta c'è un odore di pino qua se no non era una pineta ma pino non ci sta pino no pino sta a patata domenica l'odore di pino non fa sentire c'ha ragione vuol dire non fa sentire l'odore di pino se pino non c'è e oh c'ho due panini ma che voti che fa altro che i panini che si porta a mimosa si se vede questi musa la sorta solo porta pure lei ma io non lo facciamo vedere ok continuiamo via eccoci qua siamo usciti dal bosco dal bosco dalla pineta e siamo arrivati sulla cima di passamonte a 1160 metri qui sui monti sabini ecco questa è la cima di passamonte il sentiero nostro sta qua dietro eh questo è il sentiero che dobbiamo prendere noi e andrà sopra verso il tancia poi scende sotto e riprende tutta quella cresta dall'altra parte che fra le due montagne ci divide la valle gemini noi dobbiamo salire su questa qui poi scende giù dentro il prato perugino gira intorno al pizzuto e prende quell'altra cresta che è questa qui riscende dall'altra parte insomma le due creste il tancia e del pizzuto che spettacolo quella è la prossima quella è l'altra cosa che ci interessa a noi diretti sul monte tancia è iniziata la salita in testa c'è il tanci che ci porta sul tancia guarda che panorama da qua tutti i carseolani eccoli qua guarda che foschia che c'è ok dai che il pezzo più difficile l'abbiamo fatto ok siamo sull'anticima del monte tancia dove sta la croce eccola qua l'anticima monte tancia e non è questa la vita non vi è sbagliato non è perché c'è la croce e non è questa la vita la vita sta più avanti questo è un'anticima possiamo chiamare l'anticima giusto perché ci hanno messo una croce perché sennò ok siamo nel bosco diretti verso la vetta del monte tancia la vera vetta dove era la croce era un anticima anche se parecchia scambiano per la vetta del tancia no basta che guardi il tancia è 1,2,92 là è più basso vero? quindi la vetta del tancia sta qui la vetta del tancia sta dentro al bosco proprio è un boscusa ok si 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 è fatto una una spaccatura a mezzo guarda come è cascato questo è stato un fulmine oppure o il peso della neve l'inverno ok siamo sulla vera vetta del monte tancia nel bosco dove c'è questo ometto di pietra che sta a segnalare la vetta facciamo un pennarello ce lo scriviamo una volta c'era scritto poi l'hanno levata non c'è più scritto niente una volta c'era scritto monte tancia va bene questa è la vera vetta del monte tancia 1292 infatti il gps lo da ok vetta monte tancia adesso scendiamo qui sotto c'è il colle casella e questo si comincia a scendere fino sotto al prato perugino poi si risale giriamo intorno al pizzuto c'è un sentiero che ci porta sul pizzuto da lì pizzuto ferretti venicoccio parapà 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 siamo siamo di nuovo dentro la fageda stiamo sempre in un sentiero nuovo c'è scritto F S E che significa? F Sarepea Fessi Visiede Ersi oppure AGM L agenzia matrimoniale Finzi ti ricordi Finzi? ok siamo in una fageda continuiamo sul nostro ci stiamo avvicinando al prato perugino ormai l'abbiamo quasi raggiunto nonostante questo sentiero non sappiamo neanche che cavolo era qui c'è scritto F S E una vacca amicchè F S E F S E F S E non lo so non lo so proprio ed eccoci qua siamo sbucati nella Valle Gemini lì parte il sentiero della Valle Gemini che poi riporta giù al Ponte del Tanci capito? qui siamo alla Valle Gemini o Prato Perugino senti? questo è Prato Perugino la venta del Monte Pizzuto sta qui sopra adesso risaliamo la Valle Gemini si è una Valle Prato Perugino arrivata da quegli arberi lassù dovrebbe essere lì il punto giriamo c'è il sentiero che gira intorno e ci porta sul Pizzuto e poi ci fanno tutta la cresta del Pizzuto con le altre vette che mancano Pizzuto, Ferretti, Menicoccio siamo scesi qui da mezzo al bosco c'era un sentiero strano ci ha portato qua vabbè l'importante è che ci ha fatto arrivare al punto dove volevamo arrivare a noi ok proseguiamo lungo Prato Perugino ed eccoci qua sull'ultimo tratto roccioso che ci porta sulla cresta che è quella lì e poi in circa dieci minuti neanche andiamo sulla vette del Monte Pizzuto quello là su e la vette del Monte Dancia tostamo noi all'altra quell'altra cresta che ci divide che le due creste le divide la Valle Gemini e il Prato Perugino ecco Agusto che sta all'ombra che sta all'ombra è furbo ma se stai all'ombra stai pure bene ma non non guadagni mai la cresta andiamo alla panna questa cresta va eccoci qua abbiamo guadagnato la cresta del Pizzuto adesso ci andiamo verso il Pizzuto guardate che panorama qua fino a verso Terni qui se vede quello è il Sorate questo è il Monte Cosce qua quello con le antenne macchia gelata Porco Morto Monte Alto laggiù c'è il Terminillo Riedi ecco la città dei Riedi laggiù che età? che età? vieni qua vieni qua che età? ecco di qua sei sede eh? eh sì un attimo se fermiamo qua la sua laveta e mangiamo la laveta e poi questa qui dietro qui nascosta qui ok abbiamo raggiunto anche la vetta del Monte Pizzuto questa è la cosa della Madonna della Neve proteggi Mater mea fiducia mea questo è il signor Augusto buongiorno buongiorno questo è il signor Paride prima eravamo su quella cresta là siamo fatti tutta la cresta opposta che era il Monte Dancia adesso questo è il Pizzuto poi ce la andiamo qui a Punta Ferretti Monte Mericoccio scendiamo da sotto ok guardate il Tevere giù guardate il lago del Bracciano dietro il Monte Sorate questa è tutta la sabina laggiù c'è il Monte Cosce questo è il Monte Rischioso lì c'è anche la Croce lì c'è anche la Croce oltre alla Madonnina qui sopra c'è la Croce lì sotto che stanno loro e c'è la Madonnina allora che ha? ve li saluto e vi ringrazio magnatevi tutto quanto non fa riva ma magnatevi lo stesso ok ah come c'è la videocamera è smesso di chiacchierare è stata raccontare i segreti ti ha la verità sì sì parlavano male di te no è bello che c'è stata Agnese dietro non ve ne sei raccorti ha sentito tutto va bene siamo sulla punta Ferretti eccola qua c'è un piccolo omino di pietra è grazie a coso a gusto a cu quando fai un omino come questo allora puoi parlare fino ad allora l'hai fatto uno bello l'altra volta ma io te voglia ne fai uno come questo aggiungete un sasso per uno io me lo abbraccio aspetta eh eccola qua guardate che ci abbiamo avuto un re arto quanto è meno non è ci vuole tanto queste ardi quanto è meno ecco ah chi c'è scritto qua vede un po' club alpino italiana sezione Redi sezione Valle Gemini Punta Ferretti 1249 metri in memoria di Giorgio Ferretti fondatore reggente sotto sezione Cai Valle Gemini di Poggio Milteto Punta Ferretti 1249 ecco qua siamo arrivati la prossima è il Monte Minicoccio eh diretti a Monte Minicoccio prossimo prossima vette è Monte Minicoccio eh ah stavo ci siamo messi un attimo a scendere dalla Punta Ferretti beh dai di cesone se siamo fatti eh mamma mia è più guarda il pizzuto già dove l'avevo lasciato lassù se vede c'è gente c'è laggiù c'è il pizzuto questo è Punta Ferretti ha fatto il di cesone c'è sta sta salitella ancora un po' arriviamo sul Menicoccio ed eccoci qua siamo arrivati al Monte Minicoccio guarda dove stavamo là siamo sbucati lì quando siamo partiti lì abbiamo fatto tutta la cresta del Tancia tutta siamo scesi dentro la Valle Gemini Prato di Ruggino lì siamo saliti sopra siamo arrivati sul pizzuto un po' qua giù a Punta Ferretti tutta questa cresta ed eccoci dall'ultima vetta di oggi che è il Monte Menicoccio 1204 metri mi pare che è c'è scritto qualche pizzuto? ecco qua ecco qua Monte Menicoccio 1204 metri perfetto anche la quinta vetta della giornata la siamo fatta eh bravi ragazzuoli e ora ci manca solo se torna giù la macchina ci manca ti sembra poco ancora la strada mucche allo stato brato sulle creste dei sabini come ci guardano brutto guarda questa cosa è puntata a guardarci perché c'è il vitello vedi che ti pensi che mi metti paura perché mi guardi così vengono là ti piove le corna queste sono tutte di carne guarda non sono belle ti piove le corna guarda guarda che ti scatena gusto guarda come ho detto che ti scatena gusto se n'è nato ma che gli ha fatto? il toro sei te ma è una volta oh cercavo il toro il toro ha gusto eh ecco perché ci stanno a guardare non è che ci stanno a buttare oh hanno riconosciuto il toro brrrr 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 e dopo la cresta siamo entrati nel bosco giusto? davanti c'è augusto vedete? come va? va meglio va meglio? il bosco il bosco in discesa soprattutto e non è neanche tanto ripido no? e questo questo sentiero ci sta riportando all'inizio all'imbocco della valle gemini dove c'è il famoso ponticello stretto del tancia sento dei passi dietro di me e è pari è strano di solito pari sta sempre ai primi posti oggi si è messo dietro a chiudare la fila è molto rilassante è una cosa rilassante sì ok continuiamo via non me lo dice vai hai t'agusto che la lucetta rossa è accesa è accesa e quindi dai dillo dai e quindi che? che abbiamo fatto? abbiamo fatto parla tu non ci faccio molte tancia non lo stai con me lì? sì tancia pizzuto per reti meni coccio e tanticima del tancia eeeeh 16 chilometri 7 ore basta e poi ci stanno le due signore qua è circa 900 di chi si bello? fondamentale domani c'è il derby roma-lazio questa è della lazio eh appunto guardate oggi che ridi guardate oggi che ridi perché domani piagni e lei da becarla dovrebbe essere dalla roma è certo verone non canta la vittoria non canta la vittoria non canta la vittoria non canta la vittoria non c'è frega niente lì ciò perde sempre magica roma cioè lei già è preoccupata a noi ce ne frega niente noi vincemo o perdemo ce ne frega niente questo quindi detto questo vi saluto e vi ringrazio forza roma-lazio stop stop guarda ti ridi ti ridi che poi domani oh se vince la lazio se cazzo tu te riempi ma sai i messaggi che ti manda? una notte che ti manda non scherzavo io lo spengo il telefono e dovrai riaccendere non lo accendo più mai più arrivederci ciao 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 Grazie a tutti.